C'è stata sicuramente una maggiore attenzione nella città di prevenzione in riguardo alla materia lavoristica. Per quanto riguarda invece l'attività repressiva continuiamo a constatare il nostro territorio, Napoli, città e tutti i comuni della città metropolitana. Comunque gli infortuni sono ancora nello stesso numero degli anni precedenti dovuto sempre alle stesse cause che sono quelle del seppellimento, della folgorazione e delle dall'alto. Prevenzione, informazione e formazione. Io dico dare attenzione a questi tre punti può migliorare molto sicuramente questa problematica che purtroppo ancora oggi è abbastanza frequente. Come osservatore abbiamo in calendario una serie di eventi che comunque veramente faranno in modo che comunque si possa concretizzare qualcosa di positivo che vada nella direzione della sicurezza. L'undicesima giornata cittadina per la sicurezza sui luoghi di lavoro organizzata dall'Osservatorio Napoli Città Sicura è stata ospitata nell'Aula del Consiglio Comunale. Quest'anno ai lavori istituzionali seguirà un'altra giornata, il 15 marzo, con mobilitazione in quattro piazze della città, con angoli informativi curati dai partner dell'Osservatorio per offrire consulenza gratuita sui diversi aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro. Creare coscienza e consapevolezza che è legittimo rivendicare diritti nei luoghi di lavoro, che non si può sfruttare il lavoro e quindi bisogna rispettare le regole, che la legalità conviene e che un paese costituzionalmente orientato non può far cedere un diritto a favore di un altro. Penso alla vicenda dell'Ilva, giusto per fare un esempio, dove qualcuno si accontenta di garantire un posto di lavoro a qualcuno ma perde il diritto alla salute. In epoche di cambiamenti climatici dobbiamo pretendere un'industria compatibile con tutti i diritti come quella all'ambiente e alla salute. Basta che siano i territori, il pianeta, le persone a pagare sulla propria pelle uno sviluppo che non è stato quello sviluppo della persona umana di cui parla l'articolo 3 della Costituzione Repubblicana.